Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale, e si ragazzi oggi torniamo con TFC Monitor 2 con il nostro ciccio, il ladro che ci provava, il ladro che ci provava, il ladro di appartamenti dove avevamo iniziato questa avventura insieme e la serie mi sta piacendo e quindi anche mi state date molti consigli anche su come fare perché voi, visto che voi state anche voi, state spippolando sicuramente il titolo, quindi state giocando anche voi e quindi mi state ovviamente dando una mano, al nostro ciccio gli date una mano perché veramente ragazzi a volte ciccio ne conviene tutti i colori però siamo ancora in fase di, ovviamente imparando il gioco, siamo ancora in fase di tutorial, eccetera 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 quindi oggi andremmo avanti un po' quello che ci abbiamo lasciato in uno scorso episodio dove ciccio comunque abbiamo anche preso il drone avevamo fatto parecchie cose, siamo stati molto bravi a aspettare che uscisse il padrone di casa e poi hop, entrare e fregare tutta la roba che aveva all'interno dell'appartamento la polizia è un problema perché ciccio già la prima volta è stato arrestato quindi le forze dell'ordine ci conoscono però noi adesso oggi dovremmo fare in modo che non ci beccano signori quindi questo dovete anche aiutarlo anche voi ciccio perché se no è una cosa sarà impossibile ragazzi però prima di iniziare ragazzi un bel pollicione in su per supportare un bel like ragazzi mi raccomando è gratuito ragazzi io sto vedendo che ultimamente vedete i video ragazzi ma non mettete i like, è gratis, gratuito, metteteli i like, mettete mi piace per supportare almeno la serie, il canale, dai ragazzi dai fatemi sto favore, un bel pollicione in su mi raccomando iscrivete al canale, attivate la campanellina, non perdi mai nulla, in descrizione tutti i link sono gratuiti e noi adesso andiamo a fare continuiamo la nostra partitazza su TF Simulator 2 che è un gioco molto bello, è la prima volta che cioè la prima volta, adesso lo stiamo spippolando un po' insieme in questa serie in questi episodi, devo dire che è un gioco che è molto bello mi piace il fattore molto simulativo anche nel fatto proprio di queste cose qua, è molto molto bello io devo capire ancora tante cose perché tipo nella nostra sede nella nostra abitazione ci abbiamo tanto tanto da vedere come infatti nello scorso episodio dissi dobbiamo prenderci in attimo un episodio per capire bene cosa abbiamo in casa perché c'è una marea di computer una marea di di bacheche da visionare dobbiamo capire un po' cosa serve tutta quella roba lì o perché siamo ancora in fase tutore quindi mi sa che il tutorial manca pochissimo per finirlo e poi una volta finito il tutorial saremo noi poi a decidere quali appartamenti svaliggiare e quindi poi là dovremmo vedere un attimo come funziona proprio tutta la nostra casa la nostra base perché c'è una marea una marea di roba abbiamo visto l'1% il 2% della cosa è andato qua ci dice pure come ah perché ci vedi questo potremmo andare anche anche in prigione ti fa vedere anche cioè possiamo anche interagire all'interno della prigione questa è una bella cosa se giochi in moneta hard core una volta che finisci ah se giochi in moneta hard core però quindi ok ok allora si ragazzi stavamo a stavamo alla nostra sede come dicevo la nostra sede ragazzi c'ha un botto di cose vedi qua abbiamo vabbè qua possiamo posare il nostro magazzino poi vedremo pure qua abbiamo strumenti da gioielliere cioè abbiamo tipo qua mi sa che possiamo riverniciare la casa non l'ho capito ma me lo fa usare qua vabbè il computer qua possiamo hackerare cioè abbiamo tante cose la radio qua vabbè non ci abbiamo per il momento ci abbiamo niente tipo qua che cos'è? non lo so forse fa posare il bottino vabbè quel computer poi abbiamo questo usa fattoria ah qua l'avevamo visto potevamo acquistare una fattoria della droga abbandonata per poter anche fare anche spaccio dovremmo vederlo un attimo vabbè il computer sappiamo come usarlo questo qua non so queste cose qua che cosa è? si mi fa verniciare la casa? non lo so e quindi come ho detto bisogna un po' spippolarcelo bene bene allora adesso dobbiamo acquistare tutte le informazioni sulla casa del 104 ok quindi mo andiamo avanti a fare l'obiettivo allora tutta la cosa del 104 104 allora informazioni sulla sicurezza della casa due delle camere al cancello principale del lato sul retro informazioni la finestra terale è aperta informazioni le ultime inquilino sono state rilevate le inquiline sono state rilevate informazioni pc nella stanza principale ricevitore nel magazzino e cuffie in armadio di metallo ok abbiamo ombrato tutto un po' rispondiamo a questo tizio esatto perché noi il drone che avevamo rubato nell'altro appartamento l'altra volta l'abbiamo potenziato per ovviamente per cosa? l'abbiamo potenza perché noi possiamo con il drone disattivare le telecamere e adesso dovremmo andare proprio lì ma noi ci aspetta ma ce l'abbiamo il drone scusatemi come si vedeva il magazzino ce l'abbiamo il drone noi padella però aspetta ma io tutta sta roba aspetta ma non possiamo posare tutta sta roba scusa posiamo la padella la pentola frullatore vino robot che cos'è il vino robot? ah no il vino ok proiettore cuffie chiave vabbè eccolo qua il drone ce l'abbiamo il drone a bacco posiamo allora ci portiamo piede di porco la torcia il kit per aprire le porte chiave del 102 inutile che me lo porto chiave del 103 ci faccio chiave per il cangello sul retro questo sempre della 102 o 103 mi sa quindi che ci faccio ecco ci portiamo solo questo ragazzi ecco qua a me non diamo anche leggeri pure noi sennò è inutile portiamoci le padelle la cosa che avevamo preso dall'altra casa questo dopo capì che cassa serve forse qua possiamo vendere il bottino poi dopo ci proviamo andiamo a fare questa cosa qua andiamo alla casa 104 va andiamo alla casa 104 e vediamo ora dobbiamo pure imparare a vedere se ciccio sa pilotare un drone signori non è facile pilotare i droni soprattutto la prima volta con lo smartphone io l'ho portato una volta il drone ragazzi è stato un massacro lo dico mio ma la sei portata? si si come no la so portata cioè portata credevo che fosse facile se è facile ti pia di mano una cosa ci vuole 3 secondi e 9 ti pia di mano se ti prendi di mano non lo riprendi poi per fortuna l'hanno fatto in modo diligenti che se perde il controllo dopo 10 secondi se tu non riesci a stabilizzarlo si stabilizza lui ma le prime versioni non era che c'aveva l'autostabilizzatore sai quando hai botte per terra o botte sui muri mamma mia una volta all'amico mio ti l'ho rotto uno e tipo per aggiustarlo tipo 190 euro o cosa del genere vabbè ragazzi che cazzo sa portare ok detto questo una 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 netto divertente allora dove sta la casa come si metteva allora siamo qua 104 dobbiamo andare quindi dobbiamo andare dritto per la 104 comunque troppa polizia pattuglia però va bene tutte queste forze spiegate per questa zona residenziale un po' troppo allora ecco la 104 il fatto ma dobbiamo pure scegliere dove metterci per usare il drone non è non è non è una cosa facile ma ciccio adesso dobbiamo pure capire dove mettere bene le cose salve si ma guarda ti vedi da un lontano a due chilometri che sei uno spirro tu allora proprio allora ecco le telecamere come potete vedere vedi ci sono telecamere qua e io mo ragazzi mi metto che cazzo ne so un po' così un po' è un po' losco la cosa però che dobbiamo fa' allora per il drone io ragazzi direi di metterci o dietro la fermata però è molto sgammabile però quindi allora ricontrolliamo un attimo allora 104 allora questo praticamente fuori casa fino alle 11 quest'altro invece fa fuori casa poi torna e poi fa fuori casa bottino missioni ok vabbè ragazzi in attimo allora il drone mo per disattivare le telecamere allora G ok ok allora ma si ma come si alza aspetta vola su ok disattiva il drone vola giù ok telecamere allora questa è disattivata vediamo se ci sta un'altra telecamera ci sta un'altra telecamera la vediamo se riusciamo a disattivarla eh hai perso il drone addirittura un bel problema abbiamo perso anche il drone dobbiamo pure recuperarlo il drone allora signori eh allora ruba lo scatolo nel 100 e portola a casa vabbè allora vediamo se riusciamo infatti dobbiamo stare neanche la polizia qua no allora come si faceva non mi ricordo porca puttana che troia ciccio ti è fatto sgamare mannaggia scusa scusa ma chi cazzo ma chi cazzo mi ha beccato però aspetta ci sta una porta sul retro mo proviamo andare sul retro e ciccio ogni tanto guarda si fa si fa sgamare una cosa bellissima stai bloccando la strada ah con la macchina lui dice ragazzi se la parcheggio la macchina scusi eh prendo un attimo la macchina scusi scusi ho sbagliato a parcheggiarla qua mi dispiace bene se la metto qua grazie forse è per qui che ci hanno beccato però c'è troppa polizia porca puttana allora intanto dobbiamo riprendere un attimo la scatola qua ok queste le scatole che dobbiamo prendere poi ci fa vedere come fare salve ragazzi dobbiamo far veloce dobbiamo far veloce due telecamera cancione la finestra è aperta eh però ma non c'è più qua se uso il piede di porco se ne accorgono aspetta andiamo un po' poi proviamo ad andare di qua c'è un modo per passare di qua non c'ho niente in mano dai quindi sta casa praticamente no salve signore non c'è ah perché c'era il signore qua eh dobbiamo un attimo capire come fare ragazzi un attimo perché mo' è un problema abbiamo disattivato altre camera qua il drone è cascato dentro proprio guarda sapevo che ciccio non lo sapeva portare non sapevo che dovevo sta attendo al segnale però cazzo stavamo stavamo pure vicini però porca puttana che stavo troppo lontano il problema sai qual è però che c'è la polizia che sta tornando là piano piano se io se io la apro con questo si sente però no invece no non si è sentito niente però c'è la macchina della polizia che sta tornando boh mi devo riprendere il drone intanto ci riprendiamo il drone allora la scatola dove sta ma i soldi non me li fa prendere vabbè dove sta la scatola che dobbiamo prendere dove è la scatola che dobbiamo prendere la scatola ruba la scatola al 104 e portala a casa forse sta la fa vedere un attimo raga vediamo piano piano boh l'importante che sta passando anche la polizia moh speriamo che non non vede il cangello aperto la finestra laterale aperta eh ma mo ci sta pure sto tizio a lavorare qua allora intanto la polizia è passata e non ci ha visto ragazzi il fatto che mo ci sta questo qua ci sta porca miseria dobbiamo aspettare che esce almeno uno dei due al magazzino ci sta questo questo escerà tra poco uscirà allora moneta panificazione quindi questo uscirà io devo rubare ma porca putta ma come mi ha visto ma come mi ha visto via via ciccio scappa scappa ciccio no porca troia ce l'ha beccato raga cazzo ma come mi ha visto se stavo dai stavo ma io non lo so cazzo di ciccio però dai ma come ce l'ha visto ragazzi come ce l'ha visto dai porca puttana però su ok mi ha salvato qua l'ultima volta che cioè dai ma come raga ma come cazzo ce l'ha visto dai però che stronzata però quando fa così sto gioco ogni tanto cioè come ce l'ha visto il proprietaro ecco sta arrivando pure un'altra macchina perfetto comunque sta polizia che pattuglia ogni due secondi però dai ma che cazzo stronzata è c'è una gente che fa le cose più gravi stanno qua a rompermi il cazzo a me dai su si mo me la sposto la macchina un attimo caro stanno a romper il cazzo qua andatevene fate qualcosa ma scusa ma la telecamera non era non era disattivata e mo come facciamo ragazzi ma scusa ma la telecamera non l'avevo disattivata io mo e mo come cazzo entriamo e mo come entro è impossibile e come cazzo entro è impossibile ma scusa il drone non ce l'ho più scusami ma il drone non ce l'ho più io no raga c'è qualcosa che non va scusate ma il drone non ce l'ho più ma che no raga ma che succede scusa ma si è buggato ma il drone non ce l'ho più no aspetta raga scusatemi scusa scusa ma il drone non ce l'ho più è impossibile senza drone no il drone ragazzi non ce l'abbiamo più questo è un problema questo è un problema signori eh non abbiamo più il drone mo come facciamo e mo come cazzo facciamo scusa ma non è che me l'ha messo dentro il drone scusa non è che mi ha messo dentro la macchina scusa proviamo a fare una cosa torniamo un attimo torniamo un attimo a casa un attimo scusa un attimo torniamo un attimo a casa eh scusa raga senza drone come cazzo facciamo scusa un attimo torniamo un attimo a casa signori sta succedendo un macello sta succedendo eh scusa senza drone come faccio io scusa dove si può comprare il drone il computer si comprava drone recupera ah ok dovevo recuperarlo eh infatti c'era un modo per recuperarlo scusami oh drone quindi adesso ce l'abbiamo perfetto scusa facciamo una cosa va perché visto che la partita si è andata un po' diamo un salvataggio qua eh perché un attimo è andata un po' cazzo di muschio la partita aspetta drone quindi questo abbiamo fatto modificazione telecamera l'abbiamo messo ok perfetto ok ragazzi possiamo riandare un attimo abbiamo fatto bene tornando qua perché eh come cazzo facevamo se no e torniamo lì infatti c'è anche la polizia cazzo ciccio sei fatta restare un'altra volta vabbò ragazzi che cazzo questo ho un bel accovacciato quello non si sa come cazzo ci ha visto non si sa come ci ha visto eh vabbè ci ha visto in un modo molto molto strano allora siamo proprio qui siamo e la macchina la butto proprio qua così a me non cagano il cazzo allora il drone io mi metto proprio che sto fa finta aspettando l'autobus quindi col drone è possibile avviare il drone perché le camera disattivata vediamo se posso segnale distanza posso disattivare anche l'altra segnale è debole niente va buon l'altra no dai ok ricupero il drone perfetto sto aspettando l'autobus ok ragazzi piedi di porco allora dobbiamo allora questo il magazzino mo se ne andrà prima o poi ruba la scatolola nel 104 eh scatolola sicuramente nel magazzino quindi dobbiamo aspettare ottio siamo quasi stati visti eh allora questo se ne va ehm 8 ok quindi che ore sono sono le le 6 sono le 7 meno 20 alle 7 qualcosa succederà secondo me 7 quindi cuffie armette metallo ok ma vediamo vediamo che cazzo succede qua vediamo un po' ragazzi eeeh dove cazzo è entrato ma sta venendo fuori ah no ok 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 forza 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 dove sta dove sta la scatola che dobbiamo prendere dove sta la scatola che do ah questa forza 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 occhio 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 eh ma poi ma dai ma come ma come ma come ma come l'ha fatta a sapere ma dai ma che stronzata è dai ma per favore su ma ah boh ormai siamo via via eh non ce la faremo mai a scappare ma dai allora ma allora ma scusatemi no no allora carica salvataggio qua è una cosa che non che non ci quadra come allora quello stava al cese io non ho fatto nessun rumore giusto come cazzo ha fatto a sapere che che ci stava un ladro lì poi è venuto proprio dove stavo io niente ragazzi mi sa che sta missione non ce la famo ecco siamo siamo stiamo venendo sgamati da momenti da ogni da ogni 5 secondi qua eh vabbè che dobbiamo fare ragazzi non possiamo fare altrimenti aspetta passare intanto a che ora passa il pullman alle ore 13 qualcuno che è successo oh sospetta l'autobus che cosa vuoi ma sto aspettando l'autobus qualcuno ti riconoscio sbarazzi del poster del poster ma ho capito sbarazzi del poster ma quale poster ma perché c'è uno dei poster con la mia faccia no aspetta c'è qualcosa che non va signori oggi in questo gioco è ma perché qualcuno ce lo rifaccio col mio poster vabbò ciao sbirro allora ragazzi no qua la cosa è critica allora c'è anche una finestra aperta qua volendo potremmo anche entrare qua possiamo fare tante di quelle cose però allora lui alle 7 se ne va se ne va al bagno dovremmo essere molto veloci a fare questa cosa qua perché dobbiamo rubare solo quella scatola lì vuol dire che non la butto la scatola qua ma la buttiamo dall'altra parte proviamo intanto lui da penso che esce esce dal bagno alle 8 dovrebbe ecco mi sa che sto andando a cagare proprio vai bravo bravo entra ma se io entro lì qua veloci 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 vai 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 ma sarebbe il caso che passa che passa la polizia e siamo cazzi salve salve andiamo via 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 salve ce l'abbiamo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta e ciccionnettando poi queste cose le fa e andiamo a casa signori ce l'abbiamo fatta un po' di un po' di teserata in faccia però ce l'abbiamo fatta signori ce l'abbiamo fatta ok ok dobbiamo aprire questo scatolone qua e controllare cosa c'è mi sa che si apriva forse ho capito dove si apre da questo tavolo qua forse ok che cos'è pacco nero che cos'è via tramite tramite apri la scuola ci guardi in via tramite black bay e dove sta black bay scusami eccolo qua altro non lo so pacco in via ok vabbè sono state davvero abitando questo momento ti vedo ho sicuro di riparare c'è un po' di più cose ho bisogno di plantare un certo pacco a 110 in la sala be careful non si può essere visto dal ragazzo completa il lavoro al cenno ci piazza un pacco eh ma il pacco dove lo andiamo a prendere scusami a parte che noi abbiamo tutto pure sto bottino che abbiamo preso abbiamo anche no questo destinatario che cos'è scusami cosa è destinata a 3 kg forse quello che abbiamo preso vabbè dopo nel caso ce lo andiamo a vendere ma è inutile tenere questa roba qua allora facciamo salvatina perché ci ha salvato un po' il culetto il pacco però non so dove possiamo andarlo a prendere ah ok quindi ce la facciamo qua no qua è solo per aprire i pacchi però noi la cosa che ci serve adesso è comprare una cosa però prima di salutarci raga dobbiamo comprare dei grimaldelli dove si comprava i grimaldelli no esatto ne compriamo a meno a meno 3 a meno 4 a meno abbiamo anche un po' di grimaldelli anche per la prossima volta perché se no siamo un po' nella cacca va bene ragazzi io noi ci possiamo salutare qui con TFCMetro 2 con il nostro ciccio che oggi ne ha combinate di tutti di tutti di tutti i colori raga come sempre grazie di essere stati con me anche in questo in questo nuovo episodio raga grazie mille per la fiducia e per il supportazzo che mi state dimostrando ultimamente anche sotto soprattutto sotto nei video con con tanto affetto ragazzi grazie mille un bel pollicione in su raga dai tanto è gratuito sono gratis si like metteteli poi andate a like a certi video fatti col culo dai su mettete like mi raccomando tanto è gratuito anche iscrivervi al canale gratuito ragazzi quindi non vi costa nulla a passarci a cliccare a scrivervi a seguire il canale perché non ve ne pentirete con contenuti si di gtrp ma anche molto altri molto molto belli porto giochi molto molto belli quindi non mancate ragazzi grazie ancora iscrivete al canale attivate la campanella per avervi un bel pollicione in su in descrizione tutti i link sono gratuiti ragazzi noi ci becchiamo nei prossimi episodi grazie mille e arrivederci grazie mille grazie mille